Ciao a tutti ragazzi, oggi vi ho portato un personaggio che mi avete chiesto in molti, che presenta una psicologia molto interessante. Seppur il suo ruolo sia all'interno di una serie comica e seppur il suo atteggiamento venga estremizzato, Ned è un personaggio che può darci numerosi spunti psicologici sui quali riflettere e sui quali elaborare considerazioni molto interessanti. Prima di procedere con il video vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a condividere il video. Ned Flanders sembra avere una personalità principalmente conformista, caratterizzata da valori morali forti e da una natura gentile. Il bisogno di conformarsi ci indica che Ned si sente in qualche modo isolato e abbia bisogno di stabilire un legame con qualcosa di solido nella sua vita, che gli dia sicurezze e certezze, ad esempio la religione, l'avere un forte legame religioso. I genitori di Ned, che nella serie vengono dipinti come Delly tra virgolette hippie, potrebbero aver spinto Ned a cercare con ferme sicurezza e certezza al di fuori del suo nucleo familiare, ove probabilmente non le trovava. Ned potrebbe aver represso una parte più ribelle o non conformista di se stesso e in qualche modo potrebbe vergognarsi di questa sua parte. Questa repressione, che potrebbe essere scambiata per timidezza, potrebbe spiegare la sua tendenza a evitare il confronto diretto e il desiderio di risolvere i conflitti in modo pacifico. Rabbia che delle volte, anche se in rare occasioni, fuoriesce dal personaggio sotto forma di aggressività e che il personaggio può tentare di gestire tramite espressioni di evitamento del conflitto, come ripetere delle parole in modo buffo. Aspetto interessante è l'ottimismo, il suo ottimismo intrinseco, il suo desiderio di vedere il lato più positivo delle cose, che lo inducono sempre a trovare del bene negli altri, nelle altre persone. Tuttavia l'eccessivo ottimismo potrebbe risultare pericoloso, poiché potrebbe impedire al nostro Ned di vedere anche i lati profondamente negativi della vita o delle persone che purtroppo ci sono, rinchiudendolo in un mondo illusorio. Segnaliamo la lealtà e la cortesia di Flanders in opposizione al vicino Homer, spesso estremamente scortese nei suoi riguardi, e anche approfittatore, poiché molto spesso chiede cose in prestito a Flanders senza mai più restituirgliele. Inoltre Homer, a differenza di Flanders, che mostra molto più tatto d'empatia nei rapporti, tenta sempre di umiliare e mortificare Ned, dimostrando non solo una scarsa empatia e gentilezza, ma anche una forte incapacità di guardarsi dentro e di analizzare le critiche costruttive che molto spesso Flanders li fa. Il rapporto con i figli è di estremo amore e affetto nei loro riguardi, seppur nella serie per motivi comici viene estremizzato l'inverosimile suo atteggiamento riguardo l'educazione religiosa a loro impartita. Considerazione importante, forzando i bambini verso la religione, Flanders ottiene, o meglio può ottenere, l'effetto completamente opposto. Questo perché i figli ad un certo punto possono arrivare ad una vera e propria ribellione contro i valori e i comportamenti del genitore, ribellandosi a lui, esattamente come Flanders si è ribellato ai suoi genitori. Il rapporto con la moglie è stato un qualcosa di molto profondo, possiamo dire che due nella vita abbiano praticamente avuto sempre gli stessi valori e le stesse convinzioni. L'aver perso una figura così importante nella sua vita può essere stato qualcosa di veramente traumatico per Ned ed anche per i suoi figli. Ned in qualche modo ha dovuto ricoprire sia il ruolo di padre che quello della moglie. Nonostante ciò, Ned ha dimostrato una forte resilienza nel fronteggiare le sfide e la sua fede religiosa potrebbe aver contribuito a fornirgli un supporto psicologico significativo in questi momenti difficili. Tuttavia potrebbe anche essere che in alcune situazioni Ned utilizzi la sua fede religiosa come un meccanismo di coping per evitare di affrontare direttamente alcune delle sue sfide o sofferenze interiori. In tal modo la religione può rappresentare un rifugio attraverso il quale cerca momentaneamente di distogliere l'attenzione da se stesso, evitando in questo modo la risoluzione dei suoi conflitti interiori. Seppur molto velata e non così appariscente, Flanders mostra una conflittualità di tipo paterno. Ciò indica che il personaggio avrà una forte predilizione verso figure che mostrano con lui tratti caratteriali dolci, accudenti e di gentilezza. Ottimo si rivela il rapporto con Marge Simpson nella serie, rapporto spesso definito come intenso e di fortissima empatia. Ringraziando tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa analisi, ricordo l'importanza della condivisione di questo video, dei vostri mi piace e commenti, che comunicano chiaramente a Youtube che il canale esiste, che non vuole essere eliminato e che ci sono ancora molte persone sensibili e intelligenti che hanno bisogno di questi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, un caro saluto dalla mente tra le pagine, ciao e grazie ancora, ciao!